... Però ci stai? ... ... ... Ciao Come sto? Ahò? Ci sta! Già Allora, Fra, ora mi devi dire la verità... ...diciamo le cose... ... Allora, non stai con lo smartphone o lo ti mi piace? ... se non è così Cosa? SiggiATE Devi essermi sincero Ah, lo so, Fra Quindi stai con lo smartphone o sono le hack? Tutti e due tutti i tuoi dissi c'è il suo smalto di miliardi il donato amore passi insieme a passare il mio voto del giocato io voglio poter risultato ma se non c'è tutto sullo smalto e magari sul meno fatto di morta direi del giorno quindi vanno lo stesso ah quindi tu sei immortal però sei con giù no? no vabbè allora modifico poi però risulti in ho fatto l'immortal però visto che non sto giocando più a questo gioco perché mi sono dedicato a gta rp non so se conosci ah ma vissi napoletani no no non siamo napoletani amore mio io sono di salepa c'è una grande differenza immagino comunque mi sono dedicato a gta rp e sono entrato oggi per giocare diciamo con dei ragazzi che non sento da tanto però purtroppo se ogni porta che entri devo trovare gente forte come te io non mi diverto più la verità ok ma chi? detto questo se voi ti do il mio numero di telefono così ogni tanto mi dai ripetizioni va bene e se vai a guardare i miei ultimi match tipo il penultimo che ho fatto oppure quell'altro da 28 quell'altro da 22 quell'altro da 25 poi mi mandi uno screen di quando tu le fai queste tipa va bene amore mio? ah ma quindi tu ti vanti delle kill fatte a gold? sì 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 ma perché tu dove le hai fatte molechie la la radiant no ma se ti vanti di essere immortal però dico no fra ma secondo te io non ero immune non mi hai visto come giocavo non ero immortal cioè uno che ti corre in faccia uno che ti corre in faccia fa destra e sinistra con l'arma e spara fra solo rai o immortal e rai quella è l'elo ciao e ti spiego anche perché ho giocato così dimmi perché purtroppo quando io ho start il game e la gente gli stampicca a me mi parte il nervo e quindi gli devo per forza intare il game è d'obbligo capito? ma chi? io ho startato il game con questi no ma che te l'ha chiesto? tuo nonno la buonanima non so se te lo ricordi se quando è rinato c'era ancora no sì 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 tutto a posto ah c'era ancora no sì sì dagli un bacione eh ma che lo vedi va bene no no aspetta aspetta devo chiedermi una cosa io che ero sa mogliere come ti posso chiamare non so se sei arabo o c'è il cancro comunque eh ma tu sei sei platino 3 platino 2 platino 2 però scusami no 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 scusami il tuo amico sta facendo così bene a trollare devi tu che sei cringe per favore fargli parlare il tuo amico no bo 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 che rank sei bo ok allora sinceramente noi dobbiamo essere un attimo onesti senza trollare né niente vada no 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 aspetta allora a me piace tu come giochi mi piace come giochi però fra non ti puoi prendere il vantaggio di questa maniera nel senso penso tu te ne sei accorto palesemente che almeno alcuni di noi stavano trollando no? era palese e quindi perchè per quanto uno può essere scarso di certo non ti corre in faccia facendo con l'arma destra e sinistra ok? ma l'inizio stava dettagliardando o sbaglio? fra io e no? si i ragazzi ti ripetono le parole che ho detto io dall'inizio ti viene da ridere turbante in mano adesso è go però appena ho visto che la mia getta mi fai stampicato e ti ha iniziato a trollare già in prematch ti inizia a fare versi e cose e tutto ragazzi questa è la partita gliela devo entrare perchè a parte me ne passate il cazzo questo con lo smartphone ma sta gente si deve imparare che non si stampicano allora scusami ho perso il primo round e loro hanno forzato round scusami te lo faccio vedere il tuo main cioè entri col main te lo faccio vedere te lo do subito vabbè entra, entra, entra questa parte ma però, ma una cosa, ma... tu che sei platino no? dìmi, dìmi quindi sei un dragone un siperiano ma sta giocare ma ma scusami ma scusami ma hai le tue stats, bro sono un bel po' migliori delle mie perchè lui ci va da un sacco e tu gioco di... e no no, in questa season Gioco con i gold e ti gioco con i platini Aspetta che ti do l'account Però sono più forte di te e non sono platini No fra semplicemente lui gioca dal doppio del tuo tempo E non male anche che sia così Questa season anche lui è gold Ragazzi ragazzi mi vedete dai un attimo i crawler Come è Xcrawler? Come era l'hashtag? Inizia a scrivere X piccola Guarda che in quell'account l'ho pure d'olta Ah? D'olta mi sia in quell'account Ma come me l'hai d'olta? Perché? Vabbè scusami hai i tuoi amici qua perché non entri nel party a partita là Non ho capito scusa Di cosa mi c'entra perché non entri nel party Cioè cazzo si chiamano da dobbio e da dobbio Cioè dal main Vabbè perché c'è un computer di merda Se esco mori entro fra dieci minuti almeno e mi scasso il cazzo Mi immagini Vabbè fra ti sto dando l'account immagina puoi non immaginare puoi fare quello che vuoi Fra a main task non mi entra niente Se vuoi ti do l'account te lo guardi ti fai le tue valutazioni Giusto per farti capire che non sai mai chi ti trovi di fronte Quindi senza che fai il buono Ma se ci credo poco Cioè non Dico penso che sei morta Ah zitti zitti non ho capito Dico ma soltanto di memoria muscolare penso che un contest ref me lo facevi in tutta la partita Eh fra io che cosa ti voglio mandare in 1v1 Eh in 1v1 E più di questo che cosa ti posso dire Ti sto dicendo che ho trollato dall'inizio del game Va ok facciamo fin da che ci credo Ok lo vuoi il profilo o non lo vuoi? No posso prendere un profilo e prendere un profilo che ho un amico mio immortal Eh allora fra non so che dirti eh Credici non credici Già posso Cioè posso fare Posso fare anch'io così scusate Sì lo puoi fare sicuramente ma non ci guadagni un cazzo Ti trovi Ma ok Comunque consigliano Quando parli aprila un po' la bocca Perché parlare borbottando diciamo che non si capisce bene Penso sia più il mic che non si arriva al torso di me A posto Lasciando stare Lasciando stare Però vabbè E tutte queste cose così Eh per me sei cioè sei un buon giocatore Però ti aspeto questo Ciò non ti permette di prendere in giro le altre persone Vabbè Questa sia la pasta Ah lì Questa è fondamentalmente Dottoralmente Ciao Anche se l'immortal non lo hitterai mai Perché sei un bidone però Ok Ma chi Ciao Tu sei un bidone No ma chi te l'ha chiesto Ciao Mi marrai platino Vabbè No 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 non è vivo come pensi Ahahahahah